Qual è il percorso per raggiungere il benessere personale? Allora, questo percorso è proprio una costruzione, come ci siamo detti già dalla premessa, e quello che può essere il percorso nel nostro ambito psicologico e psicoterapeutico ha a che fare con tre grandi aree. Quindi, da un lato sicuramente la conoscenza di se stessi, e con conoscere se stessi intendiamo essere a contatto con le nostre emozioni, con quelli che sono i contenuti cognitivi dei pensieri, delle nostre valutazioni, riferimento a queste emozioni, e come tutto questo è correlato ai nostri comportamenti. Un'altra area è caratterizzata invece da quelli che sono i nostri bisogni emotivi fondamentali, e quindi l'approccio psicoterapeutico aiuta la persona proprio a stare in contatto, e riconoscere i suoi bisogni principali, e poi orientare la persona a fare delle scelte, a mettere in atto dei comportamenti che sono caratterizzati da ciò che la persona vuole e sente in maniera autentica. Lei ha detto mettere in contatto la persona con i propri comportamenti, ma come mettersi in contatto con i propri bisogni? Perché io manifesto un malessere, voglio stare meglio, però non sempre, magari faccio un po' di confusione, ma so riconoscere qual è il bisogno che mi dà più fastidio, o comunque che mi dà un malessere. Certo, da un lato il conoscere le nostre emozioni, e capire che le nostre emozioni sono correlate a ciò che noi pensiamo, e che queste poi interferiscono con i nostri comportamenti, è già una prima modalità, una prima fase. Dopodiché la persona viene aiutata a essere sempre più in contatto, diciamo con la sua parte più intima, che generalmente corrisponde alla parte infantile, quindi al nostro bambino interiore, che è caratterizzato da più bisogni emotivi. Sicuramente da un lato il bisogno di essere amato, riconosciuto e voluto bene per come la persona è, ma dall'altro anche questo bisogno di porsi dei limiti realistici, e quindi di porsi poi dei limiti che sono favorevoli a dei comportamenti più funzionali. Quindi in questo caso mi viene pensato una persona che investe troppo in un unico scopo, o che si caratterizza per standard molto elevati, ad esempio nell'ambito lavorativo, molto probabilmente acquisirà poi delle strategie che lo porteranno a percepirsi molto stressato, molto in tensione. Quindi anche la capacità di autoregolarsi e darsi dei giusti limiti aiuta a costruire quello che è il percorso per il benessere. Grazie.